eric e che l'ho premuto ci sono tre pulsanti e se premi il terzo quello che ancora non hai premuto cosa succede torginio è il più forte l'apertura porta secondo te c'è qualcuno non lo so buongiorno ragazzi buongiorno io sono e io sono dominique siamo ed insieme ma adesso ci troviamo nel nascondiglio del dottor genio però se ci pensi deve esserci un motivo per cui il dottor genio ci ha bloccati in casa per non farci venire qui sotto ci sono delle bottiglie d'acqua come dio che c'è che hai visto c'è anche un profumo mio dio intendi quel profumo eric guarda è qui proprio dietro le bottiglie d'acqua e forse è proprio quella che aveva in mano quando è entrato in casa nostra quindi conservava qui il profumo quindi questo è uno dei suoi nascondigli ragazzi se questo profumo è qui significa che il dottor genio è stato qui da poco e questo significa che potrebbe tornare da un momento all'altro cosa è successo qui dentro domenica ferma il dottor genio potrebbe essere qui controllo le stanze controllare tu che insomma eric mi sembrava che stavi andando per una volta dai vieni con me ehi c'è qualcuno dottor genio ci sei abbiamo piazzato in tutta la casa delle telecamere per essere a conoscenza di qualunque cosa fosse successa ok ragazzi vi confermo che la telecamera era attiva qualunque cosa è successa l'ha ripresa qui tutto a posto c'è il gatto che sta succedendo povero povera amicia si è spaventata che sta facendo ha messo tutto in disordine questo l'abbiamo notato che sta facendo cosa vuole vuole farci un difetto vuole mettere tutto su quadro aspetta aspetta un attimo si sta guardando attorno come se stesse cercando qualcosa ma lui ha perso qualcosa e deve essere qualcosa di importante per lui dominique secondo me sta cercando il telecomando eric dove l'ha messo il telecomando aspetta un attimo che lo vado a prendere eccolo qui c'è non l'ha trovato l'avevo conservato bene l'avevo messo in un cassetto sono proprio sicuro che lui cercasse questo non c'è altra spiegazione pensi che quel telecomando possa servire a qualcos'altro che il terzo pulsante possa fare qualcosa magari qualcosa di più importante per il dottor genio secondo voi ragazzi quelle bottiglie contengono veramente quel profumo lì e questo telecomando secondo voi che sembra tanto importante per il dottor genio a cosa serve dovremmo provare a schiacciare il pulsante beh ragazzi cosa ne pensate fateci sapere nei commenti ciao ragazzi un saluto a tutti quanti voi ciao ciao